Lo sai che le microplastiche sono dannose per l'ecosistema marino? Ti sei mai chiesto come potresti contribuire alla sua salvaguardia? Una semplice azione quotidiana può cambiare il futuro del pianeta. Scegli Dual Power Lavatrice, il primo detergente per bucato completamente privo di microplastiche, con un pack unico, 100% riciclabile e realizzato risparmiando fino al 35% di plastica. Noi abbiamo cura del nostro pianeta. Aiutaci anche tu! Dual Power Lavatrice è un prodotto vincitore eletto prodotto dell'anno 2020.